Aveva cominciato a praticare il windsurf da bambino sulla spiaggia monfalconese di Marina Iulia dove andava in vacanza con i genitori il 45enne Alessandro Cereser, morto nella notte tra sabato e domenica a causa di una malattia scoperta solo pochi mesi fa e particolarmente aggressiva che non gli ha lasciato scampo. Originario di Prata di Pordenone, Alessandro era stato un campione in questo sport in gioventù manifestando precocemente il suo talento con ottimi risultati in numerose gare e partecipando cinque volte ai mondiali juniores. Da adulto aveva dovuto abbandonare l'attività agonistica per i costi troppo elevati e la mancanza di sponsor ma aveva continuato con passione l'insegnamento anche a livello professionale chiamato dall'olimpionica Alessandra Sensini alla sua scuola di Marina di Grosseto. Trasferitosi in Toscana da qualche anno, Cereser era ricoverato al Cro di Aviano da una decina di giorni in terapia dopo un intervento chirurgico subito all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Lascia la compagna, la figlia, i genitori e una sorella, oltre ai tanti giovani allievi che grazie a lui avevano imparato ad amare il windsurf.